100 bici rubate sequestrate nella zona industriale di pesaro non solo interquartieri ricci garantisce la realizzazione dei boschi urbani fondazioni cassa di risparmio un milione e mezzo ai comuni allusionati mombaroccio si prepara a costruire un ospedale di comunità valle foglia e lunano pioggia di fondi dal PNRR buonasera benvenuti al nostro telegiornale di oggi mercoledì 2 novembre edizione del nostro Rossini news che apriamo parlando di cronaca perché un centinaio di biciclette sono state sequestrate da un magazzino di via toscana nella zona industriale di pesaro le indagini hanno appurato come molte di queste bici sono state rubate e nel nostro primo servizio vi mostriamo anche come queste biciclette possono essere recuperate da chi avesse subito un furto negli ultimi mesi dalla mountain bike alla city bike dalla bici vintage a quella per bambini ce n'è davvero per tutti i gusti le immagini che vi mostriamo si riferiscono infatti a un centinaio di biciclette ritrovate da un'operazione congiunta della polizia locale dell'unione pia del bruscolo e dalla guardia costiera di pesaro bici che nei giorni scorsi sono state sequestrate da un magazzino della zona industriale di via toscana dando seguito ad una indagine coordinata dalla procura della repubblica presso il tribunale di pesaro partita lo scorso mese di luglio periodo estivo in cui le indagini della guardia costiera su errati smaltimenti di rifiuti avevano portato all'individuazione anche di queste tante bici ammassate molte delle quali in buono stato in questi tre mesi le bici sono rimaste sotto sequestro all'interno del magazzino ma nel frattempo si è costruito un impianto accusatorio i cui accertamenti abbinati alla verifica delle denunce di bici rubate ha portato ad un addebito di ricettazione per il proprietario dell'immobile che non ha saputo giustificare la provenienza delle biciclette ora le bici sono state trasferite in un deposito individuato dal jeep del tribunale già alcune di queste sono state restituite legittimi proprietari che avevano sporto denuncia di furto chi avesse subito analoghi furti può verificare se c'è pure la propria bici fra quelle ritrovate consultando il sito delle comune di pesaro ed ora cambiamo argomento il sindaco matteo ricci garantisce la realizzazione di 21 boschi urbani come d'accordi previsti con società autostrade che in queste settimane sta realizzando la nuova interquartieri di muraglia ricci è intervenuto oggi per correggere il tiro su alcuni dubbi che erano emersi e che vi avevamo anche argomentato questa mattina nella nostra rassegna stampa vediamo il servizio non ci sono solo i lavori su strada carloni come opera compensativa alla terza corsia prevista la società autostrade che sta chiudendo al transito fino al prossimo febbraio l'arteria stradale fra muraglia e celletta fra le opere compensative ci saranno anche i cosiddetti boschi urbani lo ha annunciato oggi il sindaco di pesaro matteo ricci attraverso un comunicato stampa poi declinato in post sui social che ha voluto correggere il tiro su un articolo apparso oggi sul resto del carlino ricci ha garantito che i boschi urbani si faranno come previsto parallelamente ai lavori di società autostrade il progetto esecutivo dei primi sette ovvero quelli legati all'interquartiere di muraglia verranno approvati entro la fine dell'anno poi saranno realizzati tutti gli altri 14 che sono stati previsti sarebbero infatti 20 gli ettari coinvolti dalla realizzazione di polmoni verdi che spazierebbero in ogni zona della città da borgo santa maria case bruciate da santa veneranda a muraglia si tratta di un intervento fondamentale per dare equilibrio ecologico e bilanciamento della biodiversità garantendo aria più salubre in città per ridurre anidride carbonica e polveri sottili che verrebbero emesse dallo smog dell'innalzamento dell'impatto stradale dopo diverse proroghe ricci interviene dunque a garantire progetti entro la fine del 2022 restando in tema di comune di pesaro diventa una battaglia in tribunale sempre più accesa quella fra l'amministrazione e la società sunset srl che gestì gonfiabili acquatici allestiti nel 2018 sul lato ponente del mare di fronte viale trieste il comune aveva chiesto al giudice il mancato pagamento di 128 mila euro ma ora la società ha chiesto al giudice l'annullamento di queste pretese motivando che il corrispettivo non fu versato a causa della pandemia che fece naufragare l'attrazione il comune però non molla la presa e il caso è destinato a trascinarsi in sede processuale l'associazione delle casse di risparmio e delle fondazioni di origine bancaria ha deliberato un contributo di un milione e mezzo di euro a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione dello scorso 15 settembre il fondo sarà gestito da un comitato costituito dalle quattro fondazioni di pesaro fano iesi e fabriano le fondazioni devolveranno il 100 per cento dell'importo direttamente alle famiglie che hanno subito gravi danni all'abitazione principale attraverso la caritas diocesana di senigallia che in coordinamento con le altre caritas operanti sui territori colpiti ha eseguito una mappatura dei danni subiti da ogni singola famiglia questo consentirà alle famiglie di ricevere il contributo entro la fine del mese di novembre ed ora ci spostiamo a mombaroccio territorio in cui nei prossimi anni verrà realizzato un ospedale di comunità come previsto dalla riforma sanitaria del governo acquaroli il sindaco emmanuele petrucci 15 illustra l'importanza strategica di quest'opera non solo la realizzazione del nuovo ospedale di pesaro a muraglia la riforma sanitaria del governo acquaroli della regione marche prevede a livello infrastrutturale nella provincia di pesaro anche la realizzazione di un ospedale di comunità nel territorio comunale di mombaroccio una nuova forma di servizi ospedalieri che sarà a metà strada fra i nosocomi di pesaro e fano e che sarà costruita su 14 mila metri quadrati nell'area sportiva mombaroccese area che le comune ha ceduto ufficialmente ad asur con un atto sottoscritto dal notaio monfuccio di cagli alla presenza dell'assessore regionale alle infrastrutture francesco baldelli l'ospedale sarà realizzato con un investimento di fondi pnr di 3 milioni e 600 mila euro l'opportunità di avere un ospedale di comunità a mombaroccio diventa per noi un elemento fondamentale sotto tutti i punti di vista non voglio entrare nel merito di quelle che possono essere gli approfondimenti lavorativi dei posti di lavoro che si possono creare ma sicuramente dal punto di vista del valore di mombaroccio che riguardano l'aspetto socio sanitario cui mombaroccio è stato sempre fortemente legato a fronte di strutture già esistenti e che diventano ancora più determinanti a fronte del loro passato per dare una risposta al futuro l'ospedale di comunità diventa questo diventa una realizzazione nevralgica fra le due grandi più grandi città della provincia la seconda e la terza delle marche da un punto di vista baricentrico per quelli che possono essere i servizi che la stessa struttura ospedale di comunità appunto andrà a dare al territorio una struttura che si realizza in un contesto provinciale dove sono previste quattro strutture quattro ospedali di comunità cagli fosse un brone sasso corvaro e mombaroccio appunto e mombaroccio sarà l'unica struttura realizzata da nuovo quindi per noi un valore aggiunto sotto tutti i punti di vista servizi che dovrà offrire un ospedale di comunità dovranno essere sicuramente di stile infermieristico per la gestione infermieristica cosa offrirà al suo interno questo ce lo dovrà definire la regione sulla base del piano socio sanitario che in fase di iscrizione e che speriamo sia licenziato quanto prima possibile chiaro è che alcune proposte le stiamo avanzando chiaro è che è la regione che detta le fila da questo punto di vista e mombaroccio sarà pronta ad assecondare tutto ciò che l'assessorato e il presidente vorranno vagliare insieme all'asur alla nuova ast perché appunto c'è una riforma che riguarda anche l'organizzazione di asur e marche nord con la nuova ast provinciale e quindi con questi ci dovremo confrontare il cronoprogramma è già stato vagliato la realizzazione dovrebbe essere garantita sicuramente entro l'aprile 2026 in inizio dei lavori a fronte di un progetto esecutivo che in itinere e l'affidamento dei lavori che è previsto per marzo aprile 2023 dovrebbe dare il là ai lavori nell'estate prossima quindi estate 2023 per essere realizzato mi auguro nell'arco dei due anni soddisfazioni per il nuovo futuro sanitario che presuppone anche un impegno a nuove soluzioni in ambito sportivo per sostituire il campo da calcio che verrà a mancare mi lasci dire che devo ringraziare la società sportiva in primis perché quando qualche mese fa mi confrontai con loro a fronte di queste importanti opportunità per il territorio furono i primi a sostenere di portare avanti questo progetto anche facendo venire meno una struttura che loro stavano impegnando con i nostri ragazzi a livello sportivo abbiamo vagliato con la stessa società altre aree di cui una è venuta in considerazione maggiore rispetto a delle altre e su questa stiamo lavorando sia in termini di progettazione abbiamo messo circa 18 20 mila euro di progetto esecutivo sia in termini di realizzazione quindi con fondi comunali con fondi europei piuttosto che regionali o ministeriali inseguendo dei bandi che sono in itinere cercheremo di realizzare una struttura sportiva prossima a quella esistente quindi utilizzabile di nuovo per i ragazzi e per lo sport in generale non visto solo come società sportiva calcio ma è visto nello sport nel suo complesso da Monbaroccio a Fano passiamo ad altri cantieri che coinvolgeranno la regione Marche quelli che riguarderanno un importante progetto di arretramento delle scogliere il progetto completo di questa zona prevedeva e ancora in parte prevede il salpamento così si chiama cioè lo spostamento delle scogliere anticamente esistenti che sono a ridosso della ferrovia non attaccate ma molto vicino alla ferrovia quindi consentono di avere solo delle piccole spiagge diciamo a disposizione e di spostarle appunto più a largo ed allinearle con quelle che sono diciamo nella zona di torrette già realizzate quindi da qui alla foce del metauro dove ci troviamo fino a torrette dovrà esserci un'unica linea di nuove scogliere quindi saranno quelle più a riva spostati più a largo questo intervento che era previsto sugli 8 milioni di euro finanziate con i PORFES quindi fondi europei attraverso la regione Marche ha avuto attuazione come primo stralcio i primi 4 milioni messi a disposizione che sono 2 milioni della regione Marche 2 milioni delle ferrovie dello Stato perché con questo primo intervento si è emesso in sicurezza anche una parte di ferrovia che era insidiata continuamente dalle mareggiate di conseguenza questo primo stralcio oggi viene completato ed è già funzionale si rende funzionale tutto un tratto di spiaggia dove ci sono anche delle concessioni balnearie quindi ne va anche a favore del turismo dell'accoglienza su questo territorio che sarebbe la parte di Fanno Sud che spesso in passato ha lamentato delle carenze diciamo di interventi in questo momento queste carenze vengono in buona parte colmate. Porta sviluppo con questo intervento col tempo crescerà anche lo spazio dell'arenile quindi con nuove occasioni di sviluppo e di opportunità per il territorio quindi veramente ha una duplice faccia importante. Il secondo elemento che mi piace sottolineare è quello dell'efficienza. Una volta tanto diciamolo qui gli interlocutori pubblici e privati dall'azienda che ha realizzato i lavori ma tutto il percorso anche burocratico, progettuale e amministrativo ha avuto un'efficienza straordinaria che mi piace sottolineare proprio da dire da best practice e quando ci sono un insieme di queste cose questi sono i risultati. Diamo una restituzione alla collettività, al territorio di un'opera importante e soprattutto diamo anche un'opportunità di sviluppo per il futuro. Stretta di mano questa mattina tra i sindaci di Vallefoglia e Lunano che ufficializzano l'arrivo di 5 milioni di fondi PNRR che saranno distribuiti fra i due comuni. Vediamo il servizio di Edoardo Orazzi. Sport e cultura. Seguiranno questi due filoni gli interventi di rigenerazione urbana che verranno realizzati entro 15 mesi dai comuni di Vallefoglia e Lunano finanziati dal PNRR. La notizia è circolata circa due settimane fa ma la stretta di mano tra i due primi cittadini è arrivata oggi nella sede comunale di Colbordolo di Vallefoglia dove sono stati illustrati i piani dei lavori pubblici che vedranno coinvolti i due territori. Quello fornito dal piano di resistenza e resilienza rappresenta un aiuto economicamente importante per i due comuni. 2,5 milioni di euro a testa per la rigenerazione urbana volta a migliorare le qualità del decoro e del tessuto sociale e ambientale. Servono per fare, diciamo, portare il palladionigi a 8 metri e 1500 posti consentendo di giocare la squadra femminile di serie A di pallavolo a Montecchio piuttosto che altrove. In secondo luogo recuperare interamente la mura castellana di Colbordolo significa avere tre borghi storici con tutte le mure recuperate e che attraverso la collaborazione con l'Università d'Urbino rendere anche le grotte fruibili, cioè quello che progettava l'architetto Paciotti, grande architetto militare che ha progettato in mezzo a Europa, infatti due parametri ci ha caratterizzato con l'unano, per chi uno chiede perché l'unano, che sono la forte immigrazione e la forte crescita produttiva, industriale, che ci ha consentito di essere, diciamo, gli unici nel centro nord del nostro paese, qui il resto è tutto in campagna, in Basilicata, al sud d'Italia tutti questi finanziamenti sono andati. Il finanziamento più che importante direi veramente straordinario, che ad un anno non abbiamo mai visto, insomma, come finanziamento diretto a fondo per tutto e che riguardano opere direttamente della proprietà del comune, quindi siamo veramente emozionati e molto contenti. All'interno degli interventi, appunto, in due filoni che riteniamo fondamentali, fondamentali perché sono la cultura e lo sport. La cultura ovviamente è il nostro territorio che è caratterizzato in particolare, gli interventi riguardano i borghi, che riguardano quindi lo sviluppo dei nostri comuni, dal medioevo a oggi, quindi riguardano fortemente, caratterizzano quello che è un'attrattiva molto fondamentale. Nel nostro caso gli interventi sono tre, uno riguarderà il recupero della torre civica, che è l'attore antica di avvistamento, della quale oggi rimane solo una porzione. Un secondo, invece, la rigenerazione di una casa che servirà proprio come centro di servizi culturali, che è di proprietà del comune, ma ovviamente è una casa in questo momento che non è agibile, quindi andrà rigenerata completamente. E un terzo intervento, invece, che riguarderà le mura e il bastione anche da noi. Ed altro modo, invece, lo sport. Io credo che lo sport sia veramente uno dei veicoli che i comuni devono spingere maggiormente per i ragazzi e soprattutto per le nuove generazioni, perché consente veramente di sviluppare anche delle forme di cura del proprio benessere, del proprio corpo e allo stesso modo di impiego e del tempo libero, e credo anche per creare delle relazioni molto importanti tra i ragazzi e i giovani, in particolare anche gli immigrati, perché anche i nostri comuni ha una caratteristica che hanno e che sono caratterizzati appunto da una presenza di immigrazione molto alta. Diciamo che una parte riguarderà molto probabilmente la riqualificazione degli spogliatoi esistenti, mentre un'altra parte stiamo valutando se dirigerci sostanzialmente su una riqualificazione dei servizi oppure una copertura, ma in questo caso dobbiamo ancora un attimo definire. Parte domani, 3 novembre, il primo dei quattro appuntamenti della rassegna culturale organizzata dal Comune di Tavuglia, Perle d'autunno. Domani alle 21, nella sala consigliare del Comune, verrà presentata l'antologia Marche d'autore, i traguardi sportivi. Si tratta di racconti su Valentino Rossi e altre imprese sportive, che saranno discusse alla presenza dei curatori dell'antologia Jonathan Arpetti e David Migliozzi, e di alcuni degli autori coinvolti, tra i quali anche il nostro Paolo Pagnini. La scorsa settimana vi abbiamo illustrato il programma della stagione 2022-2023 del Teatro Sanzio di Urbino, nata dalla collaborazione con il Comune e l'AMAT. Vi ricordiamo che da sabato 5 novembre saranno in vendita i nuovi abbonamenti per i sette spettacoli in cartellone. La vendita, con prezzi da 61 a 123 euro, si svolgerà presso la biglietteria del Teatro Sanzio di Urbino, appunto, fino al 12 novembre, dalle ore 16 alle ore 20. Da lunedì 7 novembre la vendita si svolge anche online sul sito Viva Ticket. Domenica 6 novembre, alle ore 17.30, il Circolo Amici della Lirica aprirà le porte dell'auditorium di Via Zanucchi per ospitare i giovani talenti del Conservatorio Rossini di Pesaro. Le allieve della classe di canto della professoressa Agata Biekovska proporranno il concerto in commemorazione di tutti i fedeli defunti dal titolo Porta qui gli ultimi astri rossi. Nelle scorse settimane vi abbiamo mostrato un nostro servizio riguardante il metodo contro il caro bollette adottato dall'imprenditore pesarese Fulvio Urbinelli che nella propria abitazione ha installato un impianto di pale mini eoliche per ridurre energia, battendo quindi i costi. Un metodo ingegnoso che domani diventerà anche un convegno d'approfondimento. L'appuntamento organizzato dal Comitato di Pesaro Tecnologie Sicure si terrà alle ore 20.45 all'Hotel Ambassador di Pesaro alla presenza del consigliere regionale Giacomo Rossi e dello stesso Urbinelli. E concludiamo il nostro telegiornale con lo sport. È arrivato oggi a Pesaro John Axel Gudmundson, primo islandese della storia della VL che approda alla corte di Repesia per rinforzare la squadra dopo il grave infortunio occorso a Tambone. Come vedete da queste immagini Gudmundson ha svolto oggi a Pesaro le visite sportive di idoneità ed è pronto ad aggregarsi al gruppo per la partitissima di domenica alle 17 contro Milano alla Vitrifrigo Arena. Ex francoforte Gudmundson è una playguardia di 26 anni ed ha firmato un contratto di tre mesi con la società Biancorossa. Restando in tema di sport vi ricordiamo che questa sera la Megabox Vallefoglia giocherà la sua quarta partita in appena 10 giorni. Alle 20.30 le Biancoverdi se la vedranno in trasferta con Pinerolo. Per quel che riguarda i motori, il comune di Pesaro assieme a terra di piloti e motori VR46 Academy, Physio Gym e Pecco Fan Club ha deciso di allestire un maxischermo per domenica 6 novembre per tifare Pecco Bagnaia nell'ultimo Gran Premio della stagione che può laureare campione del mondo di MotoGP il pilota torinese ormai adottato da Pesaro e Tavuglia. Il maxischermo sarà allestito alle ore 14 in piazzale d'annunzio a fianco al maxicasco in onore di Valentino Rossi. E allora andiamo a vedere qual è la programmazione di questa sera su Rossini TV. Questa sera un appello a tutti i ragazzi universitari che si stanno ancora studiando e che si sono da poco laureati. Un appuntamento molto importante organizzato dall'Università d'Urbino che potrete rivedere questa sera alle 21.20 il Career Day. E poi vi ricordiamo la rassegna stampa di domani. Vi aspetto alle 7.20 in diretta sul canale 80 chiaramente e anche sulla nostra applicazione e anche sulla nostra diretta Facebook. Domani è giovedì e quindi torna una nuova puntata di Insieme a Canestro, puntata in diretta, quindi potete mandare i vostri commenti al numero di cellulare che vedete appunto in grafica oppure sotto la nostra diretta Facebook. Gli ospiti di domani sera saranno Riccardo Visconti, che è la guardia della VL, Mauro Procaccini, che è ex giocatore e anche allenatore. E allora grazie per averci seguito. Adesso per voi il meteo, per vedere come sarà il tempo nei prossimi giorni. Probabilmente cambierà, quindi le temperature si abbasseranno. Io vi do appuntamento a domani con la nostra rassegna stampa.